Cristian Sabadini. Ruolo? Attaccante. A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? A Cristiano Ronaldo perché c'è appassionato. Il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Giovanni Grazzi. Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? I miei pregi sono che faccio ottime giocate, invece i miei difetti che alcune volte provo a fare da solo. Numero di maglia preferito e perché? No, perché sono molto accanto. Sport preferito oltre al calcio? Sport. Basket. Materia preferita a scuola, parte ginnastica? Storia. Che cos'è il calcio per te? È la mia passione. Sport per coi tifi? Milano.